Dopo la scadenza per la presentazione delle domande riguardo la vendita della struttura del Gemelli Molise, c'è attesa. Fra qualche giorno il nome dell'aggiudicatario, a seguito di una lunga analisi dei concorrenti che si sono presentati per aggiudicarsi la sede. Al momento le offerte più appetibili, secondo Rumors, sembrano essere quelle delle grandi attività dei gruppi sanitari come l'Humanitas o il Neuromed, entrambi proprietari già di numerose strutture in tutta Italia, insieme al gruppo Pegaso, l'Università Telematica. C'è riservo sulla vendita della proprietà nata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore dell'Istituto Giuseppe Tognolo. Il tentativo della regione molise di diventare proprietaria non è dunque andato a buon fine e a breve si conosceranno i nomi degli imprenditori interessati all'acquisto. C'è preoccupazione in questi giorni, sia il mondo della politica che della Chiesa avevano manifestato timore per tale vicenda. Ancora una volta si teme per le sorti della sanità molisana, sia pubblica che privata. Il Gemelli, ricordiamo, in questi duri mesi di pandemia ha offerto il suo appoggio per la lotta contro il virus e si spera che in futuro si possa continuare così ad utilizzarlo come risorsa per il territorio.